e benvenuti a tale quale e ora vi presentiamo De Boruccia che vi canterà in veste di Paola è chiara? Ah, se hai più paura? Amici come prima, vai. Scusa, so che soltanto un'altra scusa, vedo il fianco di come se fossi in te. Stop! Allora, Loretta Goggi, cosa ti sembra? Ma, poteva migliorare con la intonazione stonata, come sempre, come tutte le altre serie, dico sempre 5-5-5 Della bellezza, beh, diciamo che se si mettesse qualche trucco in più sarebbe bella, però i trucchi li mettono quelli del programma, quindi da lei 30 perché ci pensano quelli del programma a truccarla e a far sembrare come Paola, però, sorvoiamo i trucchi Simpatia 0, però fa niente, noi non diciamo il cognome di chi è questa De Boruccia, però viene a cantare una canzone che non sa che canzone è e stola alla grande, quindi è 0 Beh, quindi altri giudici che c'è a Mendola, beh, peggio di Enrico Papi, non si può vedere questa persona qui Il collega di Loretta Goggi, mi è che può essere il migliore